Come sfruttare gli aumenti di volatilità in ottica di trading, quindi cercare di entrare con un timing buono nelle operazioni quando vengono a crearsi delle diminuzioni di volatilità. Eccoci qui, sempre dal quartiere generale di Airforex, qui dietro la mia collezione di Funko Pop dell'NBA, io sono Ardino Schenato e come sempre parliamo di Price Action. Allora viene a formarsi della Price Action interessante proprio con questa configurazione che io utilizzo nel mio approccio al trading, nelle mie giornate, nei miei mesi di trading da molto tempo e si è venuta a formare questo tipo di struttura già nell'ultimo periodo in alcuni casi. In realtà in due molto chiari che io non mi ricordo nell'ultimo periodo, uno su cui sono proprio dentro ancora, che è il titolo italiano STM, STM Microelectronics, che tra l'altro avevo condiviso anche la mia analisi sul mio profilo di TradingView, quindi potete andarlo anche a seguire se volete, la piattaforma grafica che ormai insomma tutti utilizziamo, è gratuito, basta che andate a ricercare Ardino Schenato, tutto attaccato, trovate analisi ogni settimana su tutti i mercati e andate a vedere un po' poi cosa succede quando scriviamo quelle analisi e vedrete un po' se sono interessanti o meno. È gratuito, quindi potete andare. E proprio su TradingView avevo messo questa idea, la ho poi così condivisa con tutti gli utenti del servizio di Stock Insider. Poi ce n'è un'altra, voglio farvi vedere, che invece quella l'ho condivisa con i Platinum, sempre con questo pattern. Allora, che cosa è successo qui? Molto interessante la cosa perché è semplice da vedere e può essere interessante da osservare. Guardate, questo è un grafico settimanale, spesso accade su settimanale questa situazione, ovviamente può succedere anche su grafico daily, però su settimanale può avere veramente un'esplosione di duratilità enorme, come sta avvenendo oggi, siamo a più 5,38%, e era successa, vi faccio vedere anche su Gold, eccolo qua, proprio questa settimana qui. Molto simile l'andamento. Vi spiego un po' che cosa voglio vedere. Vado su Steam, così abbiamo anche l'operazione in atto, poi qui c'è stato proprio il classico movimento che mi piace, ma anche di là. Allora, che cosa è successo? Allora, ci deve essere ovviamente una base che costruisce quindi, come dire, le fondamenta per un movimento rialzista che ovviamente poi deve venire, in questo caso vediamo la volatilità che è aumentata, quindi deve esserci un aumento di volatilità in una o più barre, in questo caso una barra di grandissima volatilità, molto piena, quindi con un corpo molto molto imponente, e poi vedete che il mercato tende a fare un nuovo massimo, va bene, e poi si ferma. Solitamente qui si ferma una, due, tre, quattro barre, non di più solitamente, quindi poi sta un po' anche all'esperienza, alla sensibilità che si acquisisce facendo sempre le stesse cose, però diciamo in questo caso sono tre barre, probabilmente sull'oro era un paio, si può arrivare anche fino a quattro. Quello che deve esserci è un attaccamento dei massimi, quindi non si va troppo a ritracciare, si rimane vicino all'area alta dove si è creato il massimo, questo qui diciamo importante dopo grande volatilità, e ci devono essere delle barre diciamo a bassa volatilità, con un corpo magari piccolo, indecision bar, come in questo caso, quindi con degli spike da una parte all'altra, poco corpo, e poi l'ultima barra deve essere una barra che fa un nuovo minimo, quindi che può diventare un minimo di swing, il classico swing low, come mi piace chiamarlo a me, e rientra. Ecco, questa è una dinamica assolutamente formidabile. Poi io in questo caso sono andato dentro con una price action sul daily, quindi sono andato a confermare, eccolo qua vi faccio vedere su daily la dinamica che io già avevo visto la settimana scorsa, questa è una FTV power, quindi io sono entrato direttamente a breakout dell'FTV, ma la dinamica principale che io vi voglio spiegare oggi, quindi l'aumento di volatilità, sfruttare gli aumenti di volatilità dopo l'abbassamento, eccolo qua, quindi ci deve essere una base, un aumento, un abbassamento in bassa volatilità, una barra che come questa crea uno swing e recupera, solitamente al breakout si può entrare se si vuole usare direttamente il weekly, o, come ho fatto io, si può andare direttamente su un daily e cercare, qui ovviamente per chi magari è già un po' più avanzato nello studio, nel, come dire, nel focus sulla price action, sul nostro metodo di Airforex, può andare anche a lavorare su conferme o su dinamiche daily. Avete capito? Quindi dinamica di questo tipo. Se andiamo a vedere l'oro, vi faccio vedere un'altra operazione che avevo condiviso, in questo caso, sul mio Platinum, in questo caso, eccola qua. Simil cosa, quindi abbiamo una base, anche qui, si crea una base, si crea un movimento di forte volatilità, eccolo qua, un massimo, e poi, vedete, in un paio di candele, eccolo qua, movimento verso il basso, recupero, in questo caso, anche qui, la rottura poteva essere un movimento importante. Io qui, tra l'altro, ho fatto un trade anche qui su daily, ovviamente, che aveva come idea quel tipo di dinamica, tra l'altro uno, se eravate venuti all'IG Trading Week, l'ho anche fatto live direttamente là, uno qui, e poi un altro qui, ho incrementato, e sono andato a prendere profitto qui a 1.800. Poi lui sta continuando ad andare, ma avete capito, la potenza, no? L'aumento di volatilità di qualche giorno che può avvenire, quindi la potenza di questo setup, che è molto semplice da vedere, e che può dare dei risultati molto importanti. Quindi, weekly, in questo caso, sicuramente il weekly è uno di quelli più, dei time frame che per questo tipo di pattern è uno dei più efficaci. Poi io lavoro weekly e daily principalmente, quindi non è che abbia tanti time frame. Deve esserci appunto questa base, per il quanto riguarda il long, poi sullo short si può fare, diciamo, simile. È la cosa al contrario, ovviamente. Aumento di volatilità, un nuovo massimo, abbassamento di vola in 2, 3, massimo 4 candele, movimento a ribasso, recupero, ed ecco che lì può esserci un'esplosione di volatilità nelle settimane successive, anche addirittura in una giornata sola. Qui c'era stato veramente 2-3 giorni di movimento enorme, se guardiamo anche STM, oggi più 5,50, non si ferma più, sta rompendo tutti i massimi precedenti, e quindi si può andare veramente a fare un bel profitto. Ok? Bene, io spero anche con questo video di essere stato abbastanza efficace, di avervi riportato una bella strategia. Lo so, mi avete scritto dei bei commenti nell'ultimo video, negli ultimi video, con delle idee su cui andare a lavorare per farci dei video, quindi tranquilli, perché le sto tenendo, e farò anche queste pillole di trading che mi avete suggerito, anzi, vi chiedo di farlo ancora. Commentate questo video con, appunto, delle idee su video pillole che posso fare, tra l'altro ormai siamo vicini anche alle giornate natalizie, quindi magari posso utilizzare anche un po' di tempo per fare qualche pillola in più. Per voi che seguite questo canale, condividete questo canale con chi, insomma, ama la borsa, ama il trading, magari vuole avere un approccio più, così, professionale, ma semplice comunque, al trading. Mettete un mi piace, seguite il canale, attivate la campanellina, insomma, tutte le varie cose. Io, a questo punto, vi saluto, vi auguro una buona continuazione di giornata, e noi ci vediamo, ovviamente, al prossimo video. Ciao a tutti, a presto, buon trading. Grazie.